Crescono di un terzo le violazioni al Codice della Strada e di oltre il 50% le sanzioni per il mancato rispetto di regolamenti diversi dal Codice della Strada. Il bilancio 2023 della Polizia Locale dei Castelli evidenzia un maggiore controllo del territorio tra Montecchio Maggiore e Berendola, con un incremento rispetto all'anno precedente delle violazioni e dei reati intercettati dagli agenti. I numeri relativi alle violazioni al Codice della Strada evidenziano un forte aumento del numero delle infrazioni contestate, cresciute a 4.922 rispetto alle 3.781 del 2022. Il maggior numero di multe elevate riguarda i veicoli privi di revisione periodica, in aumento i veicoli fermati sprovvisti di copertura assicurativa, aumentate le sanzioni per eccesso di velocità, così come quelle per il contrasto all'utilizzo dello smartphone durante la guida, prima causa di distrazione al volante. In calo invece i passaggi con semaforo rosso. In aumento gli incidenti stradali, dai 163 del 2022 ne sono stati rilevati 197, fortunatamente nessuno con esito fatale. Il 2023 è stato un anno eccezionale sotto il profilo dei risultati, sotto ogni aspetto di rilievo nell'attività della Polizia Locale, sia dal punto di vista delle violazioni dell'assicurazione statale, ma anche e soprattutto nel contrasto dei comportamenti che pregiudicano la sicurezza urbana. Penso al numero delle persone segnalate dall'autorità giudiziaria, alla Procura della Repubblica e alle sanzioni di contrasto al decoro urbano. Segnalati alla Procura di Vicenza 78 soggetti per vari reati. Spiccano le 18 denunce per guida in stato di ebrezza con rilevanza penale, 20 per reati contro il patrimonio, 9 per violazioni della disciplina dell'immigrazione, 17 le espulsioni dal territorio nazionale. I procedimenti di polizia giudiziaria totali sono stati 491 contro il 301 del 2022.